Ho avvento quello che stava meritando. Sono andato da un mio voto, mi sono andato davvero bene, Francesca mi si è stata molto compartita, mi sono andato a mia compagna, mi sono andato a fare un'intera di un fa. Sono andato a fare un salito, mi sono andato davvero forte, però lei ma, così forte. Deve essere e la parola di paura, di domani, è il mio voto neovanni, è la tua. Si, tenevamo a vincere questa gara, ringrazio Miriam, Chiara, Sara, Paola, Paolo e Saula. Sì, sono partita in 300 metri e se lo faccio. Ma la corsa è di prestigio? Dove di capire che deve essere anche di prestigio? Sì, è la Miriam, Chiara, Sara, Paola, Paola, ciao. No, ma la corsa è di prestigio? No, ma la corsa è di prestigio?